Lapo Tasselli, presidente di Jobbando. Allora, nell'ambito della due giorni di Jobbando c'è un evento dedicato ai manager. Perché questa cosa? Beh, perché i manager sono sicuramente dei profili molto difficili da trovare per le aziende e altrettanto difficili da ricollocare sul mercato. E credo che un evento dedicato a loro sia fondamentale per capire quali sono gli strumenti innovativi, come si possono colmare i gap formativi e che cosa offre il mercato oggi per questo tipo di profili. Ecco, ma nel mercato del lavoro quanta necessità c'è oggi della figura del manager nelle aziende? Quanta ce ne sarebbe? Tanto, tanto bisogno. Le aziende avrebbero veramente bisogno di profili manageriali per condurli. Purtroppo il tessuto medio-piccolo delle aziende spesso non è molto ricettivo. Spero che un'educazione, una cultura dei manager e una cultura manageriale aiuti le aziende a capire effettivamente che c'è bisogno di profili di questo tipo. Ecco, ma che cosa manca nelle aziende per capire quanto invece potrebbe essere strategica la figura di un manager? Beh, è una domanda veramente difficile. Da una parte manca secondo me un passo indietro dell'imprenditore. L'imprenditore spesso è geniale, l'imprenditore spesso è operativo, ma gli mancano le basi e gli strumenti tecnici per portare avanti un'azienda. Dall'altra parte il manager deve riuscire anche a lavorare a stretto contatto nelle piccole aziende con l'imprenditore, cosa che nelle multinazionali questo non avviene e quando devi ridurti di dimensioni non è sempre semplice.